Bashar al-Assad accusa Washington di collaborare e rafforzare i terroristi come Daesh con il suo comportamento e le sue ingerenze, ma soprattutto con i suoi dubbi sull'effettivo rispetto della tregua. In un'intervista il presidente siriano ha attaccato a testa bassa gli americani e ha così risposto alla domanda se la collaborazione militare fra Stati Uniti e Russia possa funzionare, così come è stato teorizzato. In teoria sì, in pratica no, perché gli Stati Uniti non hanno la volontà di combattere al-Nusra e nemmeno Daesh. Credono che questa sia una carta che non possono usare per la loro agenda se attaccano al-Nusra o Daesh, perderanno una carta molto importante per quanto riguarda lo scacchiere siriano. Non credo che gli Stati Uniti siano pronti ad affiancare la Russia nella lotta al terrorismo in Siria. Il giornalista domanda se Assad accetti la spiegazione USA secondo cui l'attacco contro le truppe siriane è stato un incidente. No, no, non è così, perché non si è trattato dell'errore di un singolo aereo, si è trattato di quattro apparecchi che hanno continuato a bombardare le posizioni siriane per circa un'ora. Lei non commette un errore per oltre un'ora. Secondo, non stavano attaccando un edificio in un quartiere, ma un vasto territorio, costituito da molte colline, e non c'erano terroristi vicino alle postazioni siriane. Senza dimenticare che Daesh ha sferrato un attacco immediatamente dopo quello degli americani. Isis militanti attaccati proprio dopo l'errore di un attacco americano. Grazie mille, Presidente. Grazie mille.